Il cartello della cosa l'abbiamo passato, il cartello del limite di velocità l'abbiamo passato, questo è l'174 è una via, il 274 è 900, vediamo come possiamo vedere non c'è nessun cartello ripetitivo fino al chilometro interessato che adesso andremo a vedere. In questo giro però la polizia ha usato una vettura praticamente 1 a 1 con la scritta della polizia municipale, mentre l'altra volta non l'hanno usata, i cartelli non si vedono, state notando che non si vedono i cartelli, allora vicino alla fermata dell'autobus trovate la macchina in questione, vedete che qua ci sono i piazzali, adesso c'è un po' di posti per fermarsi, ma qua giù in fondo c'è un bel posto per fermarsi, qua giù in fondo vediamo bene che c'è un posto per fermarsi davanti alla casa e anche qua vicino dove c'è il bidone della mondezza, un altro posto poi dopo è anche qua ciao 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 ciao